Una coppia in crisi prenota un albergo singolare che offre una camera alla volta, quindi solo due ospiti alla volta, su un'isola deserta. Una vacanza per tentare di riconciliare la coppia stessa. Questa è la trama dell'isola di Alda Teodorani, un racconto di 58 pagine, in questo caso in coppia cartacea. Alda Teodorani è una delle decane dell'horrore italiano. Chiaramente, parlando di una storia del brivido, le cose non andranno come previsto. È un racconto molto forte, molto intenso, sostanzialmente con solo due protagonisti, con le loro ossessioni, con le loro paure e con i mostri che quest'isola sembra generare fuori e dentro la coppia. Una lettura molto bella, molto intensa, che potete trovare appunto cartaceo e digitale, e a me poi sapete piace questo formato, perché lo leggi in una mezza giornata, te lo gusti e se vuoi ne recuperi altri.